Grazie Presidente, sarò rapidissimo per confermare l'interesse della maggioranza per far sì che Roma sia una capitale cardioprotetta e così come abbiamo dato il nostro contributo prevedendo in bilancio i fondi necessari per l'acquisto dei primi defibrillatori, per la formazione del personale eccetera, anche con questa proposta siamo d'accordo, ovvero quella di prevedere anche nelle farmacie, farmacap, la presenza dei defibrillatori e nei mezzi della protezione civile, poiché però queste previsioni sono in una delibera di assemblea capitolina, chiederei se il firmatario è d'accordo di ritirare l'atto in quanto potremmo lavorare direttamente ad una modifica, ad un aggiornamento della proposta in quanto la giunta non può modificare un atto di assemblea capitolina e questo si può fare per noi anche da domani, quindi presentando una modifica alla delibera di assemblea capitolina a firma di figliomeni, di proponenti e valutare in quel contesto, quindi essere direttamente noi ad inserire nell'atto questa previsione sulla quale vorrei precisare che siamo assolutamente d'accordo.